Il laser di polisi è un nome storicamente al quale siamo affezionati, però in realtà oggi facciamo di tutto fuorché meramente sciogliere il grasso con questo tipo di tecnica. Queste sono alcune delle lunghezze d'onda e degli apparecchi più in voga, sono quelli più usati, dei quali si sente più parlare, chiaramente così come in campo vascolare anche nel campo del trattamento del tessuto adiposo. Poi vedremo le finalità. Per qualsiasi lunghezza d'onda troverete tanti relatori che sono disposti a giurare su quello che hanno di più caro che quella è la lunghezza d'onda da usare.